sono arrivati degli artificiali nuovi da un po di tempo che volevo cioè stavo decidendo se iniziare insieme a quella provati per voi già qualcuno lo fa gli artificiali commerciali quindi diciamo facilmente reperibili nel mercato quindi su negozi fisici e così via più conosciuti diciamo così ed anche un po più costosi se vedrete pubblicato questo video significa che farò anche questo tipo di video ovvero gli artificiali che mi arrivano compro praticamente diciamo commerciali quindi non a basso costo ve li presenterò ad uno ad uno facendo anche una breve recensione poi naturalmente per ognuno la trova in pesca qui se non mi sbaglio c'è un artificiale che avevo spalettato è arrivato un po di tempo fa vediamo di che cosa si tratta se non sbaglio è un artificiale che mi ha regalato parecchie tatture e che avete purtroppo spalettato che provvederò anche a ripalettare ed infatti è proprio lui Tide Minno SLDS questo qui è il 125 sentite già il bel rumore che fa ed è il mitico colore pink sardino questo qui mi ha fatto fare belle catture nuota una bellezza si lancia benissimo e come faccio per gli altri artificiali procedo alla misurazione che naturalmente in questo caso essendo straconosciuto come artificiale non servirà tantissimo quel format ho visto che mi piace parecchio quindi lo adopero anche per gli artificiali commerciali qui inutile naturalmente andare a descrivere caratteristiche che hanno sia dal punto di vista cromatico quindi dei colori sappiamo benissimo e si vede il livello di rifinitura l'incasso degli occhi 3d le palette la perfezione della pittura e sentite bene anche al suo interno come le sfere e quindi il sistema di pesistica sia diciamo un sistema di pesistica veramente all'altezza per ottenere ottimi live qui le armature sono naturalmente da non cambiare assolutamente perché più volte provate resistenti questo qui è un 125 quindi se andiamo a prendergli le misure porto il calibro già verso i 125 c'è un discostamento talmente leggero che non se ne può sostanzialmente tener conto quindi siamo 125 interessante magari farvi sapere unge addio quanto è largo meglio quanto è alto 15,62 quanto è largo 13,44 un bello slim insomma quindi con questo artificiale ci ho già pescato preso pesci però andrò a rimetterlo in cassetta perché mi ha dato veramente tante tante soddisfazioni probabilmente vediamo anche il peso dichiarato dal costruttore e 15,5 grammi ok ed effettivamente ci porta su 16 quindi non abbiamo i decimali ma il peso è quello indicato dal costruttore eccolo qui questo qui è il Tide Minnow non ricordo mai i nomi degli artificiali poi devo andarli a trovare ogni volta che lo devo riprendere è il 125 SLDS che ha questa particolare predisposizione dei pesi all'interno che naturalmente si spostano per permettere lanci più lunghi quindi un'artificiale che conosco già bene mi ha dato bella soddisfazione che avevo rotto ce l'ho qui eccolo qui il gemello con la paletta rotta quindi prima di speriamo di no ma prima di rompere questa paletta qui andrò a prendere naturalmente il disegno per avere la paletta identica e quindi ricostruirlo non vedete la ancora in perfette condizioni però ora abbiamo quello nuovo nuovo ok lo vedremo presto in pesca se vedete questo video significa che parte anche questa rubrica qualcosa già la trovate sia sul blog che sul canale per esempio ci sono spesso gli artificiali della FISH e credo che si possa partire anche con questi perché magari c'è molta gente che non li ha mai provati non li ha mai comprati e dargli qualche informazione in più forse è utile per riuscire a farli decidere Tide Minno 125 Tide Minno 125 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.